è un'idea nuova di esposizione siamo partiti cercando di valorizzare maggiormente il prodotto va oltre quello che si vede classicamente oggi un tipo di esposizione nuova non si trova classicamente nei prodotti design for this assembly, material efficiency e modularità questi tre punti ci hanno permesso di avere un prodotto completamente reciclabile senza un sistema di refrigerazione che utilizza un gas refrigerante sono questi i tre punti chiavi che ci permettono di fare un passo verso la sostenibilità